La mia moglie 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 con immenso piacere vi presento la scuola dell'infanzia Sant'Antonio di Arteselle tutti insieme con un traghetto forse con le mani ora giro intorno a te oh che bello ballarco con la voce dico oh che bello ballarco carangela, carangela balla insieme a me oh che bello ballarco con noi l'istituto complessivo scuola primaria oh che spettacolo queste carte per invogliare il gioco d'azzardo no non è vero guai a voi questa è un'altra novità del carnevale di Solezino la scuola primaria Francesco Petrarca di Solezino piccoli, grandi, papà, mamme, nonne, zie, cugine tutti cioè in paese non c'è più nessuno tutti quelli da fuori non sono gli abitanti di Solezino benissimo di mettere in scena in scena no scena in scena sono io le streghe sono tornate notate con che popularità hanno creato questi carri non c'è più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.